con solo ferrarelle troppo fumo nella stanza che delle tapparelle vai eravamo nel club di mykonos con tanti amici non dentro il club eravamo amici a un certo punto che però io non so perché vede di casa che fatti c'è un male ci avevo inzeccato forse è perché praticamente ve lo spiego l'ho capito alexis è scopato martin alexis è scopato martin a guardare martin non guardo se riusciamo a togliere la base è tutto perfetto se un maiale ok ma non si è scopata lecce basta appunto ci ha preso questa roba comunque un po dirlo devo offendere ogni adomar falco serio ce l'ho di mare un po ma non può far fare mi manca un botto il web web perché alessio salatino che dolce perché sai perché salatino bisogna spingere per tenere sul trenino ragazzi al momento le 23 24 del primo giorno di maratona 48 ore del 28 022 24 bisogna tenere su sto cazzo di trenino pezzi di merda e vi ricordo che chi non ha 5 abbonamenti verrà inserito nel gruppo di whatsapp con tutti me con me alexi potrà saltare con noi ragazzi rosso 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 ma cazzo ma cazzo martina trinca ma cosa devo fare devo chiedere la live devo chiedere la live bro devi staccare la streaming devo staccare la streaming siamo a 15 mesi rosso ti seguo da fare facevi ancora hey wow 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 fatto sta che martina dovrebbe tornare in live come me in ospite togli il fube che non respiro più ma per l'anastro mo chiamo patrick patrick stella chiamo è un attimo ma come faccia sembra che quella quadrata scusa sempre sponso un po quadrata serio sono di mare sempre quadrata ma non diviso di tutto il corpo ma tu hai fatto il ciuccino rosso? eh? eh? no il ciuccino non è il bocchino cioè il ciuccino è al dito non conosci il ciuccino no non conosci il ciuccino pericolo mago fa così quando arrivano le 5 sabbe dai ci siamo vicini ma se non c'è una canzone la bambina ma se non so martin eh sei un attimo vedi occhi martin chiudi gli occhi martin è tutto così non è finita nella stessa maniera allunga il dito no martin fidati che schifo no martin non è niente di grave fidati cioè può sembrare più grave di quello che ha pulito al buco del culo per caso 5 minuti fa stai dicendo che le puzzate è vero? sì posso? ma che schifo ma guarda non succede nulla martin ma che schifo ecco i cani vedi? ecco i caniolini ecco i caniolini ecco i caniolini ecco i caniolini vai vai oddio ma che te sei maniato? mamma mia addio addio che puzzina allora la parte dei scherzi ragazzi comunque c'è mia madre che ci guarda salutiamo la porca vabbè la porca che sto ma scherzavo o martin non so dirti basta ma tu ma te save the children no vieni subito salto qua e rimangio quello che hai detto save the children sai cosa vuol dire in inglese? salva il bambino che è in te volevi dire save the children salviamo noi ragazzi certo perché io non sono una situazione mentale ottima io sono una psicologa sei forte a salvarti in calcio d'angolo? ma si facciamo no glue tu con ridi perché c'è la no glue ma no benvenuto basta non dire quello si basta si basta non imparo martina ti è mancato il rosso dimmi a forza nooo ma ciò più grazie facciamo più più comunque non fa me niente caldo questo vestito dei stylist eh dai facciamo itz amicizia facciamo più posso tornare a te rompermi ancora la minchia gentilmente ragazzi oh eccoci qua ho detto itz amicizia per favore non fatemi sedere senza alzarti se casetti mi sono rotto il cazzo perché pare il fube? che itz amicizia vediamo la storia allora lui si è fidanzato insieme a me io sono inizio da fumare io che sono io? passiamo sei serio? è lo stress pagando ma non è neanche pronta che fai che non è scelto neanche il fumo dovevo guidare fubesquiddy quiddy tu un po' però ci assomigli per davvero sì per il naso ecco il merce capo staffo fermi un attimo capo staffo perché che palle ma che palle è finita sta roba no ma non è restato un babè e facciamo vedere quello che sta facendo Martina guardate quello che sta facendo Martina Trinca ha dato prima del ciccione al rosso poi fa body shaming sul mio naso che cucina della madonna ma tu lo eeeh come fare sì ho detto suca non è che vi è finta di non aver capito ho detto suca suca vedi vedi ma lo sai che hanno detto? eh fubesquiddy se ti tocca squirti Diego Nasca Diego Nasca non ho capito dopo grande non avevo dubbi chi? dubbi non avevo dubbi ah ok fermi un attimo ragazzi mi ti stai guardando a Matilde? chi? fermi un attimo e lui si è finanziato con Matilde ok? vero raccontami eh sì che so basta andiamo avanti allora abbiamo un altro attrista un nuovo artista che ti canterà una prossima canzone no è arrivato qua da Sanremo a la linea rossa è questo nuovo artista ragazzi perché è importante tu sei andato da Sanremo e tu l'hai visto eh quando l'ha visto ho detto no vabbè che schifo l'hai detto povera Italia l'Italia? chi è Italia? accogliamo il prossimo artista sei inbucato eh? eh sì ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta hai deciso di fare pace esatto la gente come te andrà avanti nella vita e mi stai sfruttando? beh certo che ti ha fatto? e lo so facciamo entrare il prossimo artista era che marca è la maglia che hai addosso? ci siamo che marca chiedono no non ho ancora sto strumento ah non ho capito Save the Children è una collaborazione vai si si siamo già pronti sentiamo la minchiavata vai vai sentiamo la minchiavata vai questa è Emma Muscat io non ho fame non ho fame silenzio facciamo cantare vai inizia inizia pure tu hai qualche altra canzone da dedicarle perché sei entrato di nuovo? ma non lo so ma ho detto un nuovo artista oh come cambia voce scusa vai canta lei gentilmente vai ah vado io? ebbè no vado dove vado? fubi mette la freccia con l'anzo mo te lo dico dove ho non so se tu mi senti nel radio diopo e non so se un giorno scapperemo da qui da dove scapperemo? andata qui ora non sei più mia io bevo alla tua giù un'altra sangria facciamo il sangria facciamo il sangria facciamo il sangria e non so se ti scopò il culo stronzo non lo so e non lo so in macchina alziamo il volume che si alziamo il volume che si alziamo il volume che culo alziamo le dene di parole mento se dico non ti penso io nel culo lo prendo ti non certo ha finito il marcio che era dentro la crème il microfono punta avanti svegliati allora Marti bravo bravo grazie 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 mille grazie mille grazie chi? alla chat vediamo c'è la chat apprezzato ti leggo tutti i commenti che scrivono andiamo a chat fuori viola ragazzi mi raccomando chat di vera settele p3 in un minuto 26 85% baniamo Alessandro fub quando guidi metti la freccia con il naso bagniamolo per favore è comodissimo no bagniamolo per favore è vero hai bluetooth o ti botocchi? eh puffetta spongebob bomba suonare no sono io sono io canta fube guarda le live sono io canta fube grazie mille vieni fube sto qua vieni qua occhio oh cazzo di cavi diciamo ti sente vero? silenzio schifo agli all'arte dice fube no che poi c'è un altro piedino attenzione è finito? si vuole chiamare Marti è comodo tocca abbraccia abbraccia vai ci sto abbraccia abbraccia vai vai ho pulito il marcio ci siamo io suono è più caldo? oh ma sa suonare il rosso raga oh tutto insieme con le mani su per favore padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno si è fatta la tua volontà padre nostro che sei nei cieli sei fatto il tuo regno sei fatto la tua volontà quando cammini